Addio a Michele Nigro, da tutti conosciuto ad Agropoli come Lillino. Se ne va un altro pezzo di storia. Prima del suo pensionamento aveva ricoperto la carica di preside dell'Istituto Vico de Vivo. Michele, molto attivo anche sulla scena politica, ha ricoperto la carica di consigliere comunale, assessore e vice sindaco della città di Agropoli. La redazione di Cilento Channel esprime sentite condoglianze alla famiglia. Grazie a tutti.